Segui la 7 anche su Instagram, la 7 ovunque con te. Da un sondaggio, Isi per Repubblica, Alessio D'Amato sarebbe al 34,8, Francesco Rocca che è il candidato del centrodestra che scappa la protezione civile al 42,6, Donatella Bianchi la candidata del Movimento 5 Stelle al 18,3. Lei e Bianchi inseguite anche perché siete divisi insieme e invece potreste persino vincere. E' un appello che resterà senza risposta, ormai è troppo tardi, si va così? Ma da parte mia l'ho detto e lo dichiaro anche oggi, le porte sono sempre aperte se si volesse arrivare a un accordo anche in extremis. Se Bianchi vuole fare un ticket per me sarebbe cosa gradita. Sta sia davanti che dietro nel ticket, lei potrebbe anche fare il passo di lato. Guardando i numeri del sondaggio mi sembra che forse è preferibile farlo. Il ticket sì se magari Bianchi viene a fare la vice. Ma sì, ma insomma io penso che se si vuole raccogliere questo appello questo potrebbe essere un elemento anche di novità. Da parte mia ripeto le porte non sono mai chiuse. Desidero però ricordare una cosa che quando vincemmo nelle ultime regionali, vincemmo avendo come competitor sia il centrodestra che i 5 Stelle. Per cui io auspico che ci si possa arrivare, le porte da parte mia saranno sempre aperte. Dopodiché se dall'altra parte non c'è la volontà, il matrimonio si fa in due, noi comunque corriamo e io corro per vincere. Senta, ma quando lei dice benvenga, se vuoi entrare in casa mia, certo che ti apro la porta e possiamo anche vedere e ritrovare la sistemazione più comoda per tutti. Significa che Bianchi, candidata al Movimento 5 Stelle, dovrebbe fare un passo indietro. Ah no, in casa nostra, perché noi governiamo il Lazio. Noi oggi, mentre io sto qua facendo con voi questa gradita trasmissione, Trasmissione, i 5 Stelle stanno nel governo regionale. Io stamattina ho partecipato a una giunta, ovviamente su ordinaria amministrazione, non cose straordinarie, in cui erano presenti appunto gli assessori dei 5 Stelle. Per cui in realtà non è, diciamo, entrare in casa ad altri, ma entrare in una casa in cui oggi ci sono i 5 Stelle al governo regionale. Però al passo indietro...